... Un ragazzo vensiuto nel settore giocanile della Fiaventina ha arrivato in prima squadra fino al 2019 Senti, senti, senti come stai? oggi è una giornata speciale si, si, è una giornata speciale ringrazio tutti con quale mano hai firmato il contratto? qual è la mano della firma? fantastico ok, ok siamo felici? forte, forte, va la cara?